E a 100.000 like faremo un altro video Sì vediamo Però non proprio in alto Non proprio in alto Ragazzi E a 100.000 like per questo video Perché da Da Ginevra e Dalia Vediamo qua Che guaio Ha la mia amica Ginevra E qua che deve essere morta E ciao ragazzi Ci vediamo al prossimo video Aspetta Ok bene Sono e salva Sto ammazzando No No lo faci tu Ok Ragazzi ci vediamo al prossimo video Dove io farò Una cosa speciale con i roller Oppure con lo skate Non abbiamo ancora idea Non abbiamo ancora scelto O con l'overboard Dillo O con l'overboard Non abbiamo ancora scelto La mia La sfida per me Però Ragazzi A 100.000 like E faremo un video fantastico Quanto giochiamo Obligo verità Obligo verità Veramente Sì Sul serio Al prossimo video Obligo verità Oh yeah Oh yeah I'll be utsi